La Costa col sindaco Gregorio Iannotta, San Vincenzo La Costa oggi è un po' l'ombelico del mondo, è un po' un centro di ritrovo di tutti i partiti, c'è un clima molto piacevole e si riconferma un po' una cittadina particolare, diciamo, perché ospita sempre eventi di un certo rilievo. Grazie, sì sì, non è una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, ma dall'UMPLI provinciale, motivo per noi ancora di più di orgoglio, perché è stata scelta proprio la biblioteca della Proloquo di San Vincenzo La Costa come sede di questo importante evento aperto a tutti i candidati di tutti gli schieramenti, quindi nel rispetto massimo della democrazia. Quindi facciamo un bocca al lupo a tutti e ci rivediamo anche ora per altri eventi, perché insomma San Vincenzo c'è un cartellone, so delle belle sorprese. Sì, noi siamo molto attivi, quindi vi aspettiamo e San Vincenzo è sempre pronto ad accogliere tutti quanti. Per oggi ringraziamo il presidente UMPLI provinciale per aver scelto questa sede, il presidente della Proloquo di San Vincenzo La Costa, per aver confermato sempre una disponibilità dell'associazione rispetto a questi temi e chiaramente un in bocca al lupo a tutti i candidati e a tutti gli elettori, perché sia sempre un voto libero, un voto saggio e un voto ben ponderato. E noi ci associamo a questo augurio, insomma, e buona serata. Grazie.